È stata una settimana per fortuna piena e abbiamo lavorato molto bene, quindi abbiamo imparato alla grande questa partita in casa che sarà molto difficile come tutte le altre. Sappiamo che incontriamo una squadra che si conosce da tanti anni ed è forte, quindi massima attenzione e cercheremo di continuare la nostra strada. Nessuna partita è facile, ma soprattutto con questa squadra qua, come dicevo prima, che loro giocano insieme da anni, quindi hanno un modo di giocare, un modo di conoscersi e diciamo che ce l'hanno già nel loro DNA. Quindi abbiamo già visto che tipo di squadra è, l'abbiamo visto anche nel scorso campionato, quindi è stata una squadra molto dura all'affrontare, però l'affronteremo con massima umiltà e cercare di sfruttare le nostre armi e cercare di portare i tre punti. Ho fatto sei gol fino adesso, sono il capodoniere, penso che vicino alla porta ci so. È chiaro che a volte magari internamente le squadre si chiudono molto bene, soprattutto in questo campionato, quindi è difficile a volte trovare tanto spazio dentro. A volte magari parto largo per venire dentro e quindi questo è il modo. Però penso che comunque piano piano anche conoscere nuovi compagni, comunque alla fine siamo rimasti qualcuno l'anno scorso, ma abbiamo cambiato tre quarti della rosa, quindi è normale che ci vuole un po' di tempo per conoscerci con i nuovi compagni. Se ti ricordi bene anche l'anno scorso la partenza fu un po' così e dopo quando inizi a conoscerti, inizi a conoscere anche le caratteristiche dei tuoi compagni, ti inizi a trovare meglio e il gioco inizia a essere più fluido. Grazie a tutti.